Siamo molto attivi sul nostro sito internet, siamo su Twitter, su Facebook, siamo famosi perché facciamo molti test comparativi con cui consigliamo i migliori acquisti. Però siamo qua a parlare di denti, noi ce ne occupiamo spesso a 360 gradi, perché? Io qua ho elencato alcuni delle ultime inchieste e articoli che abbiamo pubblicato anche per far vedere la varietà del modo di occuparci di denti, per cui facciamo inchieste di soddisfazione presso i pazienti, sui costi delle cure, ma anche i test sui dentifrici. Perché, dicevo, ce ne occupiamo spesso? Perché è un tema che interessa tutti, riguarda tutti, che ci piaccia o no, tutti dobbiamo passare dal dentista. E ai nostri soci piace molto questo argomento e sicuramente ravvisiamo in loro, in generale condividiamo, coloro che dicono che c'è bisogno di un'informazione indipendente e corretta, ovvero che non sia sponsorizzata da nessuno. E quindi in questo sicuramente siamo bravi. Citando solamente qualche dato che poi può aiutarci a formulare le domande che il Biscaro ci chiedeva, citando appunto la nostra ultima inchiesta di soddisfazione sulle protesi dentali, abbiamo che, che è dell'anno scorso, quindi dati recentissimi, ma non diciamo nulla di nuovo, che 4 italiani su 10 hanno avuto difficoltà a sostenere le spese per le protesi e 1 su 3 ha dovuto rimandare l'intervento per problemi economici. Quindi questo è sicuramente un problema a noi tutti noto, che però non perché sia noto che è meno importante o va ignorato, cioè il problema della sostenibilità economica. Abbiamo poi altri dati che confermano, così come anche altre indagini in là, questa tendenza a recarsi sempre dallo stesso dentista, per un problema anche importante come quello di una protesi, il 43% si affida direttamente al proprio dentista e in un caso su 5, solo in un caso su 5, si chiede un secondo parere. Gli aspetti più critici che erano emersi da questa inchiesta e che quindi poi rivolgo ai dentisti qui presenti è che il 42% non aveva ricevuto un preventivo scritto, quindi c'è sicuramente in queste persone un problema di chiarezza su quello che effettivamente si andrà a fare e anche trasparenza, anche in termini sia appunto di che cosa si andrà a fare e di quanto si andrà a spendere. Solo il 36% nell'illustrare un tipo di trattamento, quindi appunto un trattamento protesico, informa sulle possibili complicazioni. E il 48% dichiara di non aver avuto indicazioni su come, io qua metto tra virgolette, chiedo scusa per il termine improprio, però pulire le protesi totali. Questo è un aspetto secondo me molto importante, nel senso che noi condividiamo quando si dice giustamente che la protesi in sé non è un lavoro artigianale, ma appunto fa parte della salute e è un qualcosa di più e di diverso. Peraltro è tanto vero che per questo motivo non è che una volta che è stato fornito, diciamo, l'elemento, allora non bisogna anche dare nessun tipo di informazioni su come garantire la resa, la durata di questo tipo di protesi, di prodotto. E quindi il fatto che in un caso su due il dentista abbia in qualche modo trascurato questo aspetto, secondo noi comunque è importante sottolinearlo perché in qualche modo è un elemento di riflessione. Quindi arrivando poi a noi, noi siamo abbastanza fissati sul discorso della costruzione di un rapporto di fiducia. Adesso noi perché siamo qua a parlare di un rapporto di fiducia? Perché io sto parlando di questa cosa? Perché da un lato il settore dell'odontoiatria, lo sappiamo, è di fatto praticamente escluso da quello che è il servizio sanitario. Quindi sono cure, sono sostenute in regime privato, sono mediamente costose e il rapporto è quello dell'individuo con il singolo professionista. In Italia ci sono circa 40.000 studi. Adesso io non dico che potenzialmente potrei avere 40.000 dentisti, però insomma ho un'ampia scelta. E allora il cittadino ha di fronte a sé appunto questo potenziale di 40.000 dentisti e che deve scegliere tutto sommato in forma autonoma a cui affidarsi e quindi è bene che questa scelta che non deve essere fatta andando dal dentista sotto casa piuttosto che sorteggiando insomma tra coloro che ci sono più simpatici. Allora su quali elementi si dovrebbe fondare questa fiducia? Sulla trasparenza e completenza delle informazioni. Ovviamente da parte del dentista che nel momento in cui vado per un problema si appunto fornisce tutta quella serie di informazioni proprio che mi aiutano a operare la scelta migliore. Il piano di trattamento, vado con un problema, allora il problema, quindi lui mi offre, mi propone un piano di trattamento, questo deve essere personalizzato, adatto a me, me lo deve spiegare in modo che questo sia condiviso, che io lo posso capire, accettare, posso fare delle domande. E poi torniamo sul discorso del tema del preventivo che deve essere ovviamente dettagliato, esaustivo. Quindi andando un po' più a fondo su cosa effettivamente intendiamo per trasparenza e completezza delle informazioni, che cosa appunto intendiamo? Allora leggo insieme a voi, in fase preliminare, quindi nella fase iniziale, quando devo decidere che quello sarà il mio dentista a cui affido le mie cure. Quindi quali informazioni, documentazione in concreto dovrebbe dare il dentista, sia per la tutela della mia salute, perché se lui mi fa un'anamnesi e io dico guarda che sono allergica alla moxicillina, guarda che, non so, ci sono delle familiarità, guarda che, allora magari il dentista sta un po' più attento. E quindi sia per la tutela della mia salute, ma anche eventualmente per costituire una forma di documentazione eventuale, poi per eventuali danni, come si diceva, cautelarmi eventualmente. Consenso informato se ne parla sempre, spesso, nel caso dell'odontoiatria. C'è che cosa deve contenere, a che cosa serve? Serve al dentista? Serve a me? Poi parliamo, abbiamo detto, continuo a ripeterlo, il preventivo. Allora, questo preventivo, anche qui ci deve essere obbligatorio o non obbligatorio, se ne è parlato in questi giorni, però che cosa serve, che funzione ha? Se in corso d'opera il piano di trattamento cambia, allora il dentista deve fare un nuovo piano di trattamento, un nuovo preventivo, deve correggerlo, insomma. E lo stesso vale poi per il discorso della fattura. E se i conti tornano, allora non tornano. Cosa devo fare, cosa posso fare? All'inizio mi aveva detto pagherai 100 e poi arrivo 130. Quei 30 di differenza e poi arriviamo appunto al lavoro in sé vero e proprio. Quindi, effettua un lavoro di tipo protesico. Quindi, deve fornire della documentazione. Si parla molto di dispositivi adesso, se ne diceva anche stamattina. È un tema, cioè sapere che cosa l'impianto che mi mette in bocca, che cos'è, cosa c'è dentro, è importante. Cosa vuol dire un impianto certificato? È più sicuro di un altro? Mi garantisce da eventuali problemi? Allora, tutto questo è quello che in fase preliminare, secondo noi, andrebbe costruito per evitare che poi sorgano dei problemi. Però questo ovviamente non garantisce che tutto vada bene. Diciamo che sono un po' le basi, ma questo non garantisce da nulla. Per cui può capitare che al termine del lavoro successivamente sorgano dei problemi. Io qua sono molto generica, proprio perché non essendo dentista non voglio dire castronerie. Per cui io, paziente, non sono soddisfatto. Ritengo che il lavoro, ma questa dentiera non me la sento bene. È stato male eseguito, oppure magari dopo poco tempo, anche qui poco tempo, cosa si intende? Poi ce lo spiegherete. Il lavoro si danneggia. E quindi io, Laura Filippucci, cosa posso fare? Posso fare qualcosa? Esiste quindi una sorta di, tra virgolette, garanzia sul lavoro eseguito. Cioè esiste un arco temporale, uno, due, tre anni, all'interno del quale il dentista in qualche modo è tenuto a riparare, tra parentesi, gratuitamente, si immagina un prodotto danneggiato. Cioè c'è questa sorta di tutela all'interno della quale io mi sento in diritto di andare dal dentista e dire, guarda, che questa cosa non va, però non la pago, perché così come se si rompe un videoregistratore io posso andare dal negoziante a lamentarmi, a maggior ragione magari potrei poterlo fare nel caso di un prodotto protesico, oppure no, si vedrà. E quindi a questo punto il dentista. È giusto che chieda un pagamento? Se lui si rifiuta perché di riparare o continua a non farlo bene, allora io come procedo, come mi muovo, perché ovvio che se vado dal mio dentista lui ripara, io sono contenta perché non mi fa pagare, lui è contento perché io sono soddisfatta e i problemi non esistono. Però appunto si diceva, se non è così, a chi mi posso rivolgere? Quindi quali sono le tappe, i tempi? Altra domanda che noi tutti ci chiediamo, ci rivolgiamo. Un dentista è coperto da un'assicurazione? È obbligato? Ecco, io qua ho un po' raccolto, diciamo, quelli che sono i dubbi. I dubbi dopo e prima, quello che secondo noi sono le basi per la costruzione di un rapporto. Volevo chiedere una cosa alla dottoressa. Innanzitutto, scusi, il fatto che c'è una slide che potrebbe... Che è questa? Scusi, eh. Che è questa qua. Sostanzialmente questa slide rappresenta la base della deontologia professionale. Trasparenza e completezza delle informazioni, personalizzazione e condivisione del piano di trattamento, formulazione di un preventivo dettagliato ed esaustivo. Cioè, su questo si costruisce il rapporto fra il medico e il paziente. Quindi, sostanzialmente, la prevenzione del contenzioso si deve basare su questi punti. Tutte le domande che lei ha fatto sono le domande che ogni giorno a noi vengono fatte dai pazienti. Quindi io sono proprio contento di poter vedere se nell'arco di questa chiacchierata riusciamo a rispondere. C'è una cosa che volevo chiederle. Questa indagine che voi avete fatto, dove ci sono queste percentuali, su che numero di pazienti, qual era la rappresentatività? Sopra le mille persone che negli ultimi tre anni hanno fatto... Sì, sì, sì. Indiare un campione sostenibile. Sopra le mille persone che hanno fatto,